I did all right, had no need to fight tonight Evento falla nel sistema Prova strategie sempre nuove nella modalità a tempo limitato Deja Lut In cui il bottino compare negli stessi punti in ogni partita Equipaggio lo scudo Evo Che diventa sempre più resistente Ma... sei resistente? Man mano che infliggi danni Completa le sfide giornaliere Colleziona 24 nuovi oggetti esclusivi E sblocca 7 cimeli di famiglia di Octane Dal 3 al 17 Marzo Tanto la nuova musichetta è Stonx Ma dobbiamo andare a trovare assolutamente l'Aerlum Allora, qua ne ho messo i cimeli I frammenti cimeli I frammenti cimeli ti permettono di acquistare Armi corpo a corpo, cosmetiche, pelle e leggende In ogni pack Apex c'è la possibilità di trovare frammenti cimeli bonus Una volta acquistate tutte le armi non sarà più possibile ottenere frammenti dai pack Quindi a noi mancano le bacchette di Lifeline e i cimeli, il kunai di Vrite E in più ci manca questo Che hanno messo adesso il coltello a farfalla di Octane Allora, queste sono le nuove oggetti epici e leggendari Che c'ha, Blowdown è carino Finalmente ha fatto una schimbella per Blowdown Lei non mi fa impazzire, vi dirò Questo è bello The Pathfinder Ciao Samuele, grazie dell'anno Ciao zio Questo è epico capriolo Cos'è sta roba? Ah, del Cibraltar Ah, le moti di lancio di Bangalore Finalmente Anche quella del Blowdown Bella Decorazione arma Questo è bellissimo sto teschio, eh Allora, questa skin è del Pathfinder Not bad, vi dirò Questo Octane è bello, regà Questo Octane Ammazza il Cibraltar Sei cattivo Oh, Bangalore è figa, ragazzi, eh No, regà Ma guardate il caustic Che bello che è Scritto è figo Ma anche se non lo usalo mai Oh, finalmente una bella skin Anche per il Mirage, ragazzi Skin army comunque abbastanza carina Anche questa Solleone Bella questa qua dell'area 301 Ok, quindi per sbloccare sto qua, ragazzi Cos'è che devo fare? Devo acquistare sti pacchi qua? Dopo vado con Al Oh, bella Questa si mette subito, raga Bellissima sta skin Che fa vedere l'animazione Bellissima l'animazione del Cimelio, ragazzi Bello as fuck, ragazzi C'è un cazzo da fare Bello Va vedere? Oh I have hit Ma? Bella l'animazione, raga Siamo i campioni Siamo i campioni Andiamo a vincere again E se andassimo a Lava City A vedere che succede Vai Io sono contento, zio Di questa tua scelta Vediamo se IJTEP ci porta là Sì C'è tanta gente, zio Io vado su questo palazzone Vai, io provo a farmi in uno di uno Questo Vai, mamma mia Vecchio Mi piace la tua sicurezza No, erano due copie Non so dove sia Comunque mi sa chiederato dal tuo lato Tanto per cambiare Erano due copie le mie Ahimè Nel 99 Gli hanno tolti dal gioco Fammi capire Eh, non piacciono Non piacciono Non piacciono Un drop di merda Non c'è niente Ah, quindi allora Con Crypto Visto che è la seconda volta che lo uso Con Q Lanci il drone E con Z Con quel drone lì che hai lanciato Togli gli scudi Pieni la ulti Sì Pieni la ulti E passa attraverso i muri Quindi lo nascondi Non devi proprio andare in faccia Sare Puoi tenerlo nascosto E Ti distrugge ad area Cioè i frammenti li trovi Tutti in un solo pack Non è che li trovi a caso Nei vari pack Ah, tutti i 150 in un solo pack Quando li trovi Ti compri l'oggetto Ah figo Sì, sì, sì Non sono Non sono randomici A scaglioni Sono tutti in un solo pack Quando tu vedi rosso Vuol dire che Compri un heirloom Basta Non Non devi trovare di più volte Quindi adesso Non ti fa più l'animazione Delle heirloom Cioè ti escono i frammenti Fine Sì, sì Ti escono i frammenti E poi comunque lì Sicuro Come ti escono Puoi comprare l'heirloom Devo uscire un paio di settimane Fa sta roba Perché a me non spendevi i soldi Per quello che volevo io Ma dato il pack Che ci sta Però volevo Il wright io Sono tutti fighi Però Vorrei Trovarli nei personaggi Che uso Principalmente Vabbè Vabbè quello è sicuro Però sai Meta cambia Anche il GB Quello sì Adesso invece è una bomba In ranked Allora Bomberone Proviamo a usarla a mia ulti Dai Ti aspetto Sono qua vicino Credo che siano qua Allora Tu la puoi usare Puoi usarla Anche dietro una parete La tiri Vado Apro il fuoco Aspettati L'andato Fuori due Sei bello Sto stabilendo un contatto Con il nemico Granata Sto ritirando il truppo Nemico proprio qui Ricarico Secondo me sono là in alto Ma posso anche spottarli I nemici No col drone Sì Ce lo fai vedere anche a noi Dove sono Ok Aspettate l'ora Che provo a lanciarlo Sto sistemando un portale Ti lascio un TP Per pushare Sparano Sì da dietro Della casa Ti ho messo TP Spero prenderlo Ok Sto tornando Adesso a far l'amico Questi sono cattivi Questi sono belli cattivi Sto restando il tipo Bumber Ci sei provato a tankarmeli Ma C'è sicuro Questi sono belli cattivi Ma sono fermi lì Sparano C'è un altro team che li push Aspetta 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 Non ingaggiare Prova a prendere la mia cassa Che magari non ti notano Ci avete un team anche da sopra Sì siamo circondati Io me ne vado Io me ne vado zio Che scherzi Dove vado là sopra Sì prova là Sì prova là Passa largo a destra Che il team Che ce l'ha a sinistra Sono cavolati neri Probabilmente fanno fuori Il nostro amico Se non si leva dalle scatole Eh sì Mi sa che farà una brutta fine L'amico Ma Mì Ma Oh oh Ce n'è uno dentro questo palazzo Occhio è un pat Andato Bravo Ok l'ultimo Ma si Ok Ok Bene così Andiamo Beh ora direi molto meglio Let's go Meno male Vedete sono ancora là Va che proviamo a fare un panino Un team Se vuoi Sì 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 Questo qua sopra la montagna Come ci passa qualcuno davanti Tra poco Sono là Il nostro tipo Ha già mezzo capito Non stare attenti Però l'altro team Perché se no Ci fanno il panino A noi Come ho già visto Ve li ho spottati raga Tutti Sì 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 Arrivo sono tornato disconnessione dal bruno lasciato la mia donata se la vuoi arriva l'altro è volato via il pathfinder è andato al baretto l'altro ha preso il tipo ok il crypto è bello utile ragazzi è un bel support conta che non so se l'hanno fixato ma piglia un sacco di assist anche per dei fight dove lui non partecipa dove magari si fight hanno due squadre diverse che non è la tua e guarda semplicemente guardando si pida gli assist mi colliata fino alla prima adesso non lo so perché qua non siamo in ranked quindi non so quanti assist ho guarda io ci metto anche poi un attimo vai 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 io mi prendo ti seguo guardo nei tetti oh eccolo soprattutto tetto soprattutto tetto zio un gibraltar andato morto sul colpo assisto uccisione ho dato e allora si è preso una sberla questa due squadre rimaste prendete il calabberone fuori si ha preso il tipo no 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 l'ho pingato io ok eccolo ottimo cavolato nero il gabbo si sono cattivissimo e sono pronto adesso li vado a stunare li vado a togliere lo scudo sono lassù ok lassù tolgo lo scudo ovvio che se tu passi qua no ho usato il tp bastardo sono tutti tre qua sopra ah mi ha sgamato questo non sarebbe dovuto succedere una terra grande salvo push up col tp loro sono scesi sono scesi loro 120 al pet fuori due ne manca uno solo al pet finder a meno di 80 hp dove è andato vabbè non ci do uno va manca il pet finder mi sa che è sotto di te forse si si lo sente fuori casa per strada era qua vai non capì a fangool bella bella proprio loro mamma mia grande bomber mica ho fatto un bel support qua io eh col ma il cripto è buono il cripto è buonissimo quanta roba conto che nel meta molti lo usano per andare aggressivi per anche il rank da livello alto la ulti a ingaggiare è fantastica proprio per lo stun che dà è fantastica bella mi diverto sempre un po' mi diverto un sacco sto videogame guarda che in settimana prima del weekend assolutissimamente bisogna rifare qualche rank assolutamente zio con il secondo account ovviamente perché io non vado a giocare contro i fenomeni ci sta ci sta le rifacciamo e cerchiamo di arrivare a diamante tanto siamo entrambi a platino 4 si siamo a platino 4 4900 che si sono a platino 4